ciao buongiorno via romania buongiorno 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 male edilizia buongiorno ciao ciao e fare buongiorno e allora oggi è un buongiorno molto sentito e molto particolare per me perché oggi ricorre la giornata delle cinque sorelle scomparse per per colpa soprattutto colpa di chi non fa il proprio domenico e qua ciao ecco qua le responsabilità bisogna prendersene allora io dico dico solo questo io voglio dire solo questo che è il 3 ottobre del 2011 ciao vedete oggi si pulisce oggi si fa tutto che bella cosa buongiorno buongiorno siamo in diretta buon lavoro che bella questa cosa che è finalmente è venuta pulzare e quella è quella cosa che mi dà fastidio almeno cioè tenerlo almeno tenerlo con dignità questa cosa cioè se la devi tenere tienila con dignità no una volta al mese due volte ogni due mesi perché vedi è brutto perché oggi la ricorrenza è giusto che almeno vedi già questa è la prima volta eh buon lavoro ciao buon lavoro ciao è una bellissima cosa questa mattina dai almeno 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 si ricorda poi vedi io di che se ne dica di quel io veramente voglio sempre ringraziare Ciao Pino Ciao Vedete il vostro ricordo per sempre Panno pulito Buongiorno Salutiamo a Tina Io non vado in ordine di età A Giovanna Ciao Pachi Maria Ciao Maria Antonella E Matilde Ciao Domenico Ciao Domenico E' inutile che parliamo Amici Quello che c'è da dire Lo dice questo posto Questo posto ogni volta che si vede Noi non è che lo vediamo solo il 3 ottobre Noi lo vediamo sempre Sempre Perché ce l'abbiamo sulla pelle Scritto il 3 ottobre Mai più 3 ottobre Mai più 3 ottobre Buona giornata a tutti Buona giornata a tutti